Un parco pubblico è uno spazio da rispettare e preservare perché patrimonio comune. Spazio pubblico non vuol dire di nessuno, vuol dire di ognuno di noi. Troppe volte vi abbiamo mostrato le immagini di uno spazio destinato alla collettività deturpato e vandalizzato solo perché non protetto o sorvegliato. Questa volta vi mostriamo le immagini invece del parco di in Fondo Aviale Italia dove sconosciuti ne avevano danneggiato le strutture riportate al suo stato originario da un service del Lions Club di Fano che ne curò il primo allestimento. Purtroppo ogni anno abbiamo questo service permanente, frutto di uno la prima volta abbiamo attrezzato l'area e poi ogni anno dobbiamo andare a una manutenzione sistematica, abbiamo provveduto anche quest'anno. Viva però è la speranza che qualcuno possa farsene carico, qualcuno della collettività locale. Sarebbe auspicabile per preservare questi luoghi che sia con risorse private che pubbliche offrono spicchi di verde o spazi per mamme e bambini o chiunque voglia evadere dall'ordinario per momenti di relax. Certa normativa che esiste ad esempio nel Comune di Bologna in cui i cittadini si prendono carico della via dove abitano, dove possono fare alcune attività ma nel contempo abbellire la via stessa.